Anche quest'anno si celebra all'1 novembre la giornata dedicata a tutti i santi, conosciuta anche come ogni santi, festa cristiana molto sentita che celebra l'onore e la gloria di tutti i santi della storia della cristianità. A seguire il giorno 2 novembre la festa dei defunti, nota anche come giorno dei morti, in cui i fedeli cristiani commemorano i cari che non ci sono più. Per l'occasione le comunità parrocchiali della città di Agropoli hanno organizzato l'ottavario di preparazione alla commemorazione dei fedeli defunti. A partire da martedì 25 fino a lunedì 31 ottobre è prevista tutti i giorni la recita del Santo Rosario alle ore 15 e la celebrazione eucaristica alle ore 15 e 30. Martedì 1 novembre, giorno della solennità di tutti i santi, si terrà alle ore 15 la recita del Santo Rosario e alle ore 15 e 30 la celebrazione eucaristica. Mercoledì 2 novembre invece, giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti, è prevista alle 8, alle 9 e alle 10 la celebrazione eucaristica. A seguire la deposizione della corona in ricordo dei defunti, omaggio dell'amministrazione comunale di Agropoli, prevista alle ore 15 e per concludere la celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 15 e 30 presieduta da Monsignor Ciro Miniero. Tutte le celebrazioni si svolgeranno presso il cimitero della città di Agropoli.